Cotellino, ah ce l'hai? Stavrà mica tirati come l'animale? No, no, non ce li succede. Guarda, ci calciano i testelli? No, no, con quell'allino. Se poi vi togliete il casco, magari... Eh, lavorate meglio. Ma che, siamo venuti a casa con una guarnizione con lo scotch, digliose. Con lo scotch all'ospedale. Mi era capitato anche con la reda che mi sono ribaltato e non andavo più così perché il carburatore è venuto a pulirlo. Lo vorrei che magari è sporco. Il momento che è andata a cura indietro, che era gasata, ti resta il galleggianto, è scemo. Ah, pensavo che era gasata. Gasata o pilota? Il pilota è pericoloso. Il pilota è morto, cazzo, non l'ho beccato. Ecco, è capitato. 10-10? L'hai visto cosa ha fatto? Finito questo, tutti a casa. Non l'hai visto quando era fatto? Occhio, come vediamo questo? C'è l'ho di cacciare. Così piccola? Ma dai. L'ha dato di quarta piena. Dica, non avrai mica tirati come l'animale. C'è l'ho più grosso? C'è l'ho più piccola. C'è l'ho più grosso. Pedale sul freno dietro sempre. Perché è l'attimo che ti fa quel verso. No, è troppo piccolo. Pedale appena torre e in automatico torre. Perché è corta? Io ce l'ho tagliata. Se non ce l'hai, vi scappare sotto. C'è l'ho più cropare. C'è l'ho più grosso. Chia o di quanto? Glavi, po motocicola. Quanti ilgle dallo?